ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato alle vostre collezioni collezioni di orologi che sono i vostri perché in questo canale parliamo di orologi non è che qua stiamo pettinare le bambole qua parliamo di orologi belli brutti che ci piacciono o meno sono sempre orologi puntata abbastanza particolare quella di oggi perché vede protagonista anche come primo video daniel fasano che è un noto batterista il batterista dei dari ok e lavora anche con max pezzali e con gianna nannini tra gli altri 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 musicisti famosi quindi è un personaggio diciamo famoso i dari a me non piacciono per nulla perché non ti offendere daniel ma sono un pochino è la versione edulcorata della musica che piace a me la trovo un po adolescenziale non ti offendere d'altronde ognuno i propri gusti sapete io doppia gran cassa chitarra distorta sepoltura slayer metallica megadeth dream theater system of a dawn questo insomma no però per poi non menzionare tutta la parte della west coast degli anni 80 90 motley crew skid row guns and roses quella roba lì insomma non è che noi andiamo a ascoltare i dari non ti offendere ora prima di guardare il video del nostro amico e degli altri amici del canale vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo omega speed master il moon watch 42 mm calibro coassiale 3861 che qui vedete nella sua versione con vetro zaffero sia sul trasparente anteriore che sul trasparente posteriore quindi è un orologino che mi garba dai piano piano bisogna carburare perché abbastanza presente al pulso ha una forma abbastanza è tondeggiante ciccioneggiante quindi comprendo quelli che hanno un polso un pochino più piccolo del mio che faticano a comprarlo ad averlo capisco non è un orologio per tutti però come si suol dire iconico passiamo al primo video con l'indice infuocato e la barra spaziatrice che soffrirà per tutta la durata del video fuoco ciao davide sono daniel da torino ti faccio subito i complimenti per il canale grazie io faccio il batterista di lavoro infatti non ho mai portato orologio per tutta la mia vita però grazie a te negli ultimi due anni sono praticamente entrato in questo loop di collezionismo e insomma passione per questo questo mondo e soprattutto per gli orologi vintage e quindi partiamo subito con la mia piccola collezione questo è un 6.5 che è speciale per me perché è un regalo di mio padre e mio nonno e io l'ho visto portare al polso per praticamente vent'anni fin quando poi lui è mancato e l'ho ritrovato e l'ho rimesso a posto gli ho cambiato il vetro perché era molto vissuto lui lo usava a lavorare nei campi era graffiatissimo fatto revisionare carino bello ogni tanto lo metto è insomma ben quadrante 80 fine 80 è bello poi sulla stessa linea diciamo questo altro 6.5 che ho preso mi sembra forse in turchia non mi ricordo più so che al ora io non lo so non lo so perché è preso in turchia già questo mi lascia in turchia va bene non vogliamo essere no prevenuti nei confronti del mercato turco degli orologi è un quadrante che non ho mai visto questo però non vedo neppure niente di particolare cioè potrebbe anche essere un bel 6.5 fatto così però convenite con me che abbastanza particolare come quadrante non è che io non ho mai visti sembra quasi di quelli che ti accrocchiano no per per farti piacere però è solamente c'è una supposizione non ho elementi non ci sono elementi che mi portano alla conclusione del genere quindi lo diamo per buono da attario arabo alla particolarità di avere questo questo quadrante che chiamiamolo full loom infatti si illumina completamente al buio è e di giorno invece a questo questo colore giallognolo un po vintage che mi piace molto ogni tanto lo metto anche questo il fondello poi andiamo veloci verso il mio preferito dei seiko che ho che questo cosiddetto bruce lee cronografo automatico perlomeno della seiko questo del 75 credo l'ho fatto revisionare l'ho fatto lucidare funziona perfettamente lo metto spesso e niente uno dei dei miei preferiti ho avuto l'ho cercato tanto quando l'ho trovato in buone condizioni l'ho preso l'ho pagato il giusto però devo dire che molto figo molto bello questo secco qua 6139 no il calibro è sì quando io immagino che quando suoni la batteria non indossi orologi perché veramente il ruolo del batterista è quello di menare le braccia il più più possibile no un colpetto qua un colpetto la una vibrazione su una vibrazione giù ti metti un secco degli anni 70 alla fine della serata lo devi portare a revisionare di nuovo no senza contare i colpi che può prendere ovunque in questo in questo caso credo siano più van avvantaggiati avvantaggiati i chitarristi bassisti no un orologio qua che che noia da che fatica da niente ecco magari di qua sulla destra ma divagazioni estemporane rimaniamo sempre su vintage con questo fantastico belmatic anche questo l'ho preso da poco svegliarino l'ho rimesso a posto completamente perché era un po un disastro gli ho cambiato il vetro perché ha proprio crepato gli ho lucidato io la cassa il calibro è perfetto e tiene il tempo anzi ve lo faccio magari anche sentire suonare perché comunque è sempre un'emozione sembra la campanella di scuola è ora di entrare a scuola tiene il tempo di hai detto è bravo ecco il batterista tiene il tempo dell'orologio comunque è una roba sempre direi magica al giorno d'oggi altro svegliarino questo è russo un polio topo come come dirsi voglia pagato poco è carino ogni tanto lo metto credo sia anni 80 o 70 a questo quadrante nero argento che a me piace molto e lo so che non è un orologio super luxury ma ma che ci frega del super luxury ma dunque passiamo a questo fantastico casio che bene vintage questo è un dbx 112 che comunque per l'epoca era veramente non plus ultra della tecnologia adattario calendario rubrica calcolatrice tutte robe che ovviamente non uso mai però ogni tanto lo metto perché parte che sono tornati un po di moda questi ma con la calcolatrice però questo è proprio quello vero quello degli anni 80 e a me piace moltissimo non un po lucidato l'ho trovato tempo fa in un mercatino l'ho preso subito a poco è bravo fatto vero fighissimo a batteria poi il mio everyday watch che questo il king topino questo lo premio sono voluto togliere il sospizio a me piace un casino con quel quadrante blu così mi piace perché rolex senza niente cioè ti dice solo il tempo non c'ha la lente non c'ha la data non c'ha il giorno c'è un cazzo è il rolex più semplice che ci sia lo metto sempre tutto segnato infatti la class bella rigata è vissuto da a me piace tantissimo poi insomma anche un po rovinato un po scassato ci sta un po punk come beh mio preferito poi questa coppia di vintage che sono orologi per così dire di famiglia nel senso che sono appartenuti ai miei bisnonni sono questo moeris o meris dirsi voglia e questo h gervin che sono stati veramente indossati tantissimo infatti questo era un placato oro che come vedete la placatura è venuta via si vede l'ottone sotto questo l'ho rimesso un po posto gli ho cambiato il vetro incredibilmente tiene il tempo in modo precisissimo è un automatico anche carica manuale ogni tanto lo metto è carino piccolino stessa cosa per questo che è molto sottile questo un carica manuale un po indagato su questi due due marchi sono dei micro sono spariti col tempo però devo dire che comunque sono ancora molto belli nonostante quasi credo più di 60 anni di età comunque il discorso dei micro brand scomparsi degli anni 50 60 70 è un mondo da scoprire cioè si potrebbe aprire una porta di collezionismo su quella sfera su quel mondo lì no secondo me non si finisce non non si fa in tempo a terminare la vita che non hai terminato la collezione perché sono veramente centinaia centinaia i marchi scomparsi svizzeri è però se uno volesse mettersi lì e dire io voglio collezionare voglio farmi una collezione gli orologi vintage che poi con poco si prendono è quelli lì sono proprio sono sottovalutati dal grande pubblico quindi orologi dei marchi scomparsi plum 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 e ti fai una sbrandraccata di orologi che non ti servono a niente però con un con un tema tutti gli orologini dei marchi scomparsi però anche lì punto poi è un altro non puoi avere la possibilità di studiare tutti questi marchi nel dettaglio no gli orologi che hanno fatto è impossibile sono centinaia non ci sono nemmeno le fonti necessarie quindi ti vai e ti fidi di quello che trovi sulla bancarella che può essere un accrocchion e allora lì il rischio è più alto no se uno colleziona longin si mette lì studia longin decide poi di comprare quel dato modello ristudia 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 legge si informa finché non lo vede lo trova facendo una collezione di questo tipo si rischia degli accrocchion passiamo poi a questo orologio che è della mia consorte anzi del papà della mia consorte poi in realtà io non ho mai capito se è più femminile o più maschile come linee il diametro c'è la grande cartier l'ho fatto revisionare da poco piccolino ovviamente io non me lo metto mai cartier è santo se è un orologio diciamo unisex cioè nella stessa forma così per esempio acciaio e oro con il quadrante bianco può essere sia da uomo che da donna dipende però dalla dimensione perché se è un 21 millimetri di lato è veramente piccolo e diventa più un bracciale con un segnatempo sopra una roba femminile no diciamo se è da 40 come quelli nuovi moderni è anche bello presente al polso diventa più un orologio con un pezzettino di bracciale che tutto il resto no è un orologio che mente anche nella versione acciaio e oro mi piace mi piace numeri romani poi questi in questi orologi qua in queste tipologie di orologi di forma non sono un problema ci devono essere da che la mia ragazza forse boh è più nello stile magari di roger taylor di queen per me non è proprio il mio il mio preferito però teniamo lì in collezione magari un giorno glielo vendo a sgamo e ci guadaglio dei soldi no scherzo bravo lo tengo lì poi altro orologio che a me piace molto l'ho preso un po come muletto è un seco senza nessuna pretesa bello massiccio ci vai ovunque con questo magari è ottimo se devi andare a fare delle risse perché è bello duro insomma se dai qualche cazzotto con questo secondo me male fa no scherzo dai no però mi piace molto carino e lo metto spesso anche bello preciso nuovo insomma tra la sua figura via seguo 5 e ultimo orologio il più bello di tutti attenzione eccolo qua questo casio cmd 40 questo veramente strano una figata so che starei rabbrividendo e questo cambia i canali della tv funziona anche ancora oggi degli anni 80 vintage anche questo era di mio padre funziona ancora con i moderni smart tv basta la frequenza infatti funziona con questo infrarosso è molto simpatico perché quando vai nei pub ti puoi divertire a cambiare il canale della tv e la gente ha i fantasmi ma sono molto legato perché insomma una storia particolare dietro fu un regalo che fece mia madre a mio padre negli anni sempre appunto fine anni 80 quando lui si ruppe la gamba e praticamente doveva stare sul divano tutto il giorno con la gamba rotta aveva perso il telecomando della tv la tv tutto il giorno perché era appunto costretto lì e mia madre allora gli regalò questo orologio perché così gli disse guarda almeno non perdi più il telecomando ce l'hai sempre al polso e lì è un po lucidato insomma ogni tanto lo metto ha sempre il suo brivido emozionale va bene davide ti saluto continua così grazie complimenti guardo sempre tutti i tuoi video alla prossima rock allora il simpatico amico batterista qua c'è degli orologini simpatici quei due digitali lì sono hanno il loro senso di essere mi piacciono mi piacciono ora starei rabbrividendo invece no questo qua l'ultimo qua il calcolatore lino con il telecomando al polso è un buon motivo per comprare un orologio così c'è il telecomando al polso tieni mettilo parte che credo che si possa con una qualsiasi applicazione sul tema uno smartphone si possa fare anche questo scherzetto nei pub uguale quelli che hanno il fra la porta infrarossi penso presumo mi sembra mi pare comunque dai tutti i belli orologi secco 5 non può mancare in collezione vai vai per per i vintage per la maggiore vai per i vintage sia che sono tramandati dal passato dai genitori sia che li hai acquistati sulle bancarelle bravo non farti mancare niente continua così e mi raccomando è una cosa mi stavo domandando ma no batteria il metronomo il metronomo ora metronomo fai i battiti per minuto no avrà uno scarto giornaliero anche il metronomo ci saranno i metronomi più precisi più accurati e quelli meno precisi è perché uno scarto di qualche alla lunga può dare fastidio questa sarebbe una cosa da approfondire lo scarto giornaliero dei metronomi prossimo video ciao davide ciao james james e volevo farti vedere la mia piccola collezione di orologi scusami mio accento orribile inglese e ma no cominciando con inglese o per la rolex gmt master 2 gmt master 2 acquistato la settimana scorsa scorsa olio non ho mai avuto un gmt master bello nel passato ho avuto un seedweller seedweller 2 vent'anni fa ma il primo rolex che che compro da da anni bravo bell'orologio è un classico ma ben conosciuto certo bel pezzo passando un orologio comprato sei mesi fa è un code 11 0 bla 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 cioè non si vede non ho mai visto questo orologio qua sul canale finalmente qualcuno che porta un odemore piguet diverso dal royal oak no eccolo qua orologio che non ha avuto grande successo per via della sua diciamo estetica abbastanza avanguardista no insomma non è un classico odemore piguet con quelle ansie così scheletrate diciamo moderne però gran bell'orologio complimenti il nuovo odemore piguet caure 59 in acciaio cronografo un orologio veramente fatto bene anche se è stato un po divisivo se si dice in italiano quando è stato rilasciato ma in acciaio con questo nuovo quadrante è veramente un orologio speciale anche il cristallo è curvo fatto fatto molto bene ma dietro anche lì ben fatto e direi di sì bravo passiamo a un orologio che amo di più nella mia collezione ebbè è spettacolare guarda che il rotore il rotore guarda lì come è fatto molto bene complimenti ragazzo eh bravo e per finire ah cosa c'è Vacheron Constantin Vacheron Constantin overseas Overseas 4500 mamma mia sto qua è uno di quegli orologi che io ho sempre avuto come grail watch no ora siccome mi sono un po scaduti gli orologi con il bracciale integrato con le forme gentiane no e non se ne può più anche sto qua mi è un po passato puoi dire non so se avessi tutti quei soldi lì da investire da spendere prende prenderei questo orologio qua rimane sempre affascinante è la prima volta che lo vedo sul canale anche questo bravo e prodotto un orologio molto bello semplice così bello con il famoso poisson de genève funzione di ginevra detta così anche questo qua un orologio spettacolare beh secondo me è certo e va bene basta così saluti a tutti gli amici dal canale e a presto a presto a presto allora cosa cosa hai portato quattro orologi spettacolari va bene uno è un po un mainstream no il gmt di rolex nuovo di pacca bravo te lo sei voluto mettere in collezione hai fatto bene ci sta poi dopo però hai ci hai dimostrato tutta un'altra serie di 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 gusto di capacità di scelta è che cosa che io probabilmente avrei anche io anche difficoltà è andare a essere così ben selettivo proprio scegliere queste cose fuori dal coro il breguet spettacolare il vacheron constantin spettacolare e lo demorpi che c'è tre marchi lasciamo perdere rolex che è commerciale ma tre marchi di alta orologeria da da spostati mondo ma c'è non costa a te breguet e lo demorpi che meglio rolex io non so cosa dirti complimenti amico inglese canale internazionale qua diventa bravo scrivete nei commenti qua sotto cosa pensate di questo trittico poi più il gmt che fa la sua figura da da povero è però il trittico lì bravo proviamo a fare questo video proviamo ciao davide un saluto a te e ai tuoi spettatori della svizzera svizzera la mia premessa è che io non sono un appassionato di orologi perché degli appassionati io non ne ho le caratteristiche piuttosto posso definirmi un interessato agli orologi fino a qualche anno fa non mi piacevano mi lasciavano del tutto indifferente li consideravo anche un modo stupido di spendere soldi dal momento che siamo circondati da strumenti che segnano sempre l'ora e la data esatte e lo fanno anche molto meglio di un orologio certo ma poi mi è stato regalato un orologio meccanico uno di quelli che poi ho scoperto chiamarsi omage di una casa molto famosa e molto particolare l'omaggiato e continuando a guardare il movimento dal fondello poi in me è scattato una specie di scintilla che mi ha fatto interessare al meccanismo degli orologi meccanici e quindi ho progressivamente approfondito l'estetica la storia bravo in ogni caso io non sono un appassionato quindi io non ho mai speso nemmeno un centesimo per comprare un orologio tutto quello che che fa parte della mia collezione sono in realtà dei regali che ho ricevuto ciascuno da una persona diversa insieme tutti i regali per un motivo diverso da persone diverse storie diverse motivi diversi quindi l'unica cosa che io ho comprato è questa scatola porta orologi anche abbastanza bruttina e un cinturino nuovo eh sì più che una collezione vera e propria io ho due raccolte una forse degna di essere mostrata che è quella che vi faccio vedere l'altra un po' più così e quindi non mi ci soffermo cioè quindi ti hai due collezioni di orologi anche da ciofeconi tutti regalati tutti regalati ma com'è possibile sta cosa qua? visto che per me gli orologi sono accessori non solo di pregio meccanico ma anche e soprattutto di pregio estetico io li ho voluti dividere per categoria di formalità bravo un po' la Douglas Mortimer per capirci va bene allora partiamo con l'orologio della prima fascia quella degli orologi più formali in cui ho voluto includere questi due Frederick Constant potete vedere Frederick Constant è un marchio svizzero di cui sento parlare davvero poco ma secondo me varrebbe la pena ma come? di approfondire ma nel mio canale non faccio altro che parlarne faccio recensioni su recensioni quando vado in gioiellerina li tiriamo fuori li guardiamo li spigliamoli guardiamoli annusiamo e digi che se ne parla poco i marchi sono sono 300 facciamo un trecentesimo per ognuno cioè dopo diventa poco ma se ne parla questo primo è un automatico in acciaio della serie classic 39 mm con sfere ore minuti e secondi anche un datario ore 3 purtroppo c'è una luminescenza sulle sfere ah purtroppo che secondo me non dovrebbe essere presente nei dress watch ok ma no la cassa ha la forma una forma veramente molto classica interamente lucida una forma senza tempo il cinturino è in pelle di coccodrillo con fibbia d'ardiglione con il marchio della casa perfetto bravo e sempre come orologio diciamo massimamente formale abbiamo anche quest'altro Frederick Constant che forse è ancora più formale del precedente questo qui non ha la sfera dei secondi ha soltanto sfera minuti e ore e il datario ha ore 3 ed è leggermente più piccolino con una corona bombata il datario non ci voleva passando invece al gradino di formalità inferiore abbiamo questo nomos topino nomos neumatic metro neumatic molto interessante come potete vedere ha una forma un po' a padella c'ha una cassa completamente lucida molto larga non mi fa pazzire praticamente è tutto quadrante la cosa che me lo fa piacere moltissimo è questo datario che corre intorno al bordo più esterno del quadrante con i due segnalini arancioni che vanno a abbracciare per così dire la data corretta cioè fammi capire finora ti hanno regalato due Frederico Stan è un nomos cioè ma si è circolato da gente che c'è soldi per i quali i regali cioè ti regalo una matita una penna ti regalo un cappellino orologi da mille duemila tre mila euro quattro mila cioè di cosa stiamo parlando è bambagia qua siamo nella bambagia abbiamo poi il quadrante dei secondi a ore 6 sottoquadrante la corona è zigrinata quindi è piccola ma si può prendere bene e poi ha un movimento che è veramente spettacolare molto lavorato ovviamente di matifattura il titolo della nomos brava nomos penso che questo sia anche il cinturino è il cinturino è originale ovviamente penso che questo sia un ottimo orologio per le occasioni semiformali sempre nella stessa categoria dei semiformali ci ho messo anche questo ma no l'ommage di cui vi avevo parlato questo kadisen ovviamente ho scoperto dopo che era la copia spudorata del nomos lambda trovo che sia comunque un quadrante molto bello ovviamente grazie a lambda grazie a cazzo ha un movimento molto interessante devo dire molto lavorato non so se riesco a metterlo bene a fuoco ed è questo qua questo orologio che io continuando a guardare mi ha fatto appassionare all'orologerie appassionare si mi ha fatto interessare appassionare ti sei fregato cioè me l'hai durata per tutta l'inizio del video che non sei un appassionato che non vuoi essere un appassionato che non te ne frega niente degli orologi che te li hanno tutti regalati e ora ti è scappata che ti ha fatto appassionare e ammettilo fai outing dillo ti sei appassionato al mondo degli orologi punto anche non significa niente che te li hanno regalati che non te li sei comprati te che non hai speso un centesimo ti sei appassionato o perlomeno ti stai appassionando va bene classica scendendo ancora di un gradino di formalità abbiamo questo un altro regalo Baltic essendo francese Aquascape o Aquascaf molto devo dire che è molto versatile questo orologio mi piace moltissimo penso che sia il mio preferito attualmente della mia collezione perché ha questa atmosfera leggermente vintage una cassa che potete vedere veramente molto ben proporzionata la cosa che mi piace di più in assoluto a parte il quadrante che è blu ma dà dei riflessi che possono andare dal nero all'azzurro chiaro sotto sotto la luce del sole e con questi indici e queste sfere old radium ma la cosa che mi piace di più in assoluto è il vetro bombato certo bello che fa veramente sembrare vintage e questo bracciale a chicchi di riso che è veramente spettacolare morbidissimo è comodissimo è veramente risalta e eleva anche secondo me un pochino lo stile di questo Baltic rispetto a quanto potrebbe fare l'altro bracciale che ho in dotazione che è invece di gomma credo ah cinturino di gomma e infine l'ultimo grado di formalità quello più basso l'orologio sportivo per eccellenza che è l'orologio che utilizzo per andare in vacanza è questo Hamilton khaki field ho regalato anche questo con un quadrante nero c'è poco da dire con questa corona estremamente sovradimensionata corona tra l'altro comodissima da girare un po' mi dispiace che questo sia un orologio automatico mi piacerebbe che fosse meccanico mi piacerebbe piaciuto che fosse meccanico perché così almeno avrei avuto la scusa di poter girare questa corona tutti i giorni anche se in realtà la riserva di carica è di 80 ore la cassa è satinata bello qui ho messo diversi cinturini ho diversi cinturini a disposizione per il momento ho messo questo l'unico vero problema di questo Hamilton è la mancanza dell'antiriflesso e questo un po' si vede e poi abbiamo tutti gli altri orologi che fanno parte della collezione che però non meritano menzione grazie un saluto a tutti dicevo l'Hamilton lì che lo vorresti a carica manuale esiste a carica manuale il prossimo orologio è fatti regalare il cacchi field meccanico così ti giuri la corona come ti pare a ti tanto ti lo fai regalare che problema c'è ti sei fatto regalare tutti questi orologi non è che ti sei fatto regalare il casio da 15 euro o il fossil ti sei fatto regalare Hamilton Federico Stan Nomos oh ma qua siamo a livelli altissimi quindi continua così non ti appassionare fatti regalare gli orologi dagli altri e quando te li regalano gli dici ma io non sono appassionato io non li voglio comunque lo prendo perché è un regalo lo prendi lo metti da parte e poi continui così ti fa regalare orologi su orologi su orologi capito tanto non sei appassionato che cazzo te ne frega ciao Davide sono Tommaso della Germania Germania sono mezzo italiano così scusate se il mio italiano non è perfetto ma allora oggi abbiamo avuto James dall'Inghilterra poi quello della Svizzera vabbè parlava italiano meglio di me però era della Svizzera e sto qua dalla Germania Germania ho cominciato di guardare i tuoi video perché volevo migliorare il mio italiano e ho pensato che posso anche mandare io un video questo è il Rado Dyast del mio padre l'ho comprato nel 2005 ceramica e adesso il design non è più per lui ma è un bello orologio è cominciato la mia passione questo qua è il classico orologio di forma uno dice voglio un orologio di forma voglio l'orologio rettangolare Longin ce li fa Oris li fa Gégé Lecoutre chiaramente ne fanno tanti rettangolari Rado fa la versione rettangolare a modo suo con un design molto particolare tutto in ceramica il quadrante che sembra quasi staccarsi dalla cassa da tanto delineato che sembra che non ci sono nemmeno i bordi una lunetta sembra che non c'è niente il ragazzo sa fare gli orologi di design come si deve sto qua dici che a tuo padre non piace più il design non lo attira più va bene però sto qua secondo me da sfruttare cioè se io ce l'avessi lo indosserei volentieri attira molto l'attenzione preso perché lui non le indossi più e adesso lui sempre prende le ciofeche peggio questo primo orologio che ho comprato io solo Speedmaster Triple Date bell' orologio da 99 o 98 non lo so ma bellino questo qua si ci piace poi dopo questo ho preso il Snowflake oh mamma mia mosaico anche questo bellissimo quadrante stupendo finitura l'unico problema è il braciale perché per me non va perché troppo grande o troppo piccolo dipende ma Perfect Fit non esiste per me la regolazione poi dopo ho comprato questo in altro Amsterdam questo è bellino il quadrante è bellissimo quazzone con il movimento nuovo F9F di Grand Seiko questo movimento è anche troppo robusto sì i calibri al quarzo di Grand Seiko sono un'altra roba non stiamo a confonderci con i calibri al quarzo che troviamo negli orologi in qualsiasi orologio anche quelli costosi qua c'è tutta una progettazione lavorazione lì dietro anni e anni di studio addirittura coltivano i cristalli di quarzo in laboratorio per poi scegliere quelli più adatti che ha le caratteristiche per realizzare il calibro cioè stiamo parlando di un orologio al quarzo di un altro livello che si merita del top l'edizione è limitata ma non mi interessa io ho comprato perché il quadrante è bello sì poi non fa per me in altro discorso giapponese o per la non lo so questa è una edizione che hanno fatto per i stagioni questo risembra l'inveano sì è titanio ma è titanio questo mi piace che questo non è tanto alto come per esempio questo un po' più fino strano il quarzo alto così è un belino è bello sì bellino complimenti poi ho comprato questo cos'è bellino questo qua explorer top 39 ce l'ho anch'io millimetro bellino bellino primo rolex che ho preso bravo ho fatto bene poi l'orologio che per me è bellissimo di tutti questo qua top explorer 2 con il quadrante bianco lo indosso molto molto perché per me è perfetto nell'edizione nuova non va bene per me le proporzioni sono distrutto con le contatori così grande non mi piace sono d'accordo con te l'explorer 2 nelle nuove versioni ha perso ha perso molto appeal poi che sia un bello orologio è logico cioè per l'amor del cielo 42 mm questo qua invece è da 40 e siamo però sempre alle solite a volte anche io vado a vedere no perché sono belli gli explorer 2 in queste referenze qua 5 cifre così però però si va un po' troppo in là con gli anni a me non mi va di spendere tutti quei soldi in orologi così vintage non sono abbastanza appassionato di rolex vintage da buttarci dei soldi però quella sarebbe la forma che dovrebbero ottenere anche oggi cioè 42 mm l'ho fatto poi questo qua ehi Submarino dell'edizione nuova con l'arc un po' più fino così l'orologio per me ho preso le proporzioni giusti come quelli 5 digits 5 digits no le proporzioni perfette 5 cifre eh sì questo normalmente non mi non mi interessa quando si vede che io indosso l'orologio ma con questo ho avuto non lo so dove ma ho preso questo scratch e questo va non va bene per me ma non si può fare niente no no sì bisogna tenerlo così poi ho preso questo qua anche questo un altro gonfia tantissimo e anche io indosso con piacere perché il bracciale giubilì è bellissimo e anche si si indossa con comodo con piacere ma con piacere questo questo orologio è tanto hype tanto grida quasi no si questo non mi piace non mi piace prendere tutta l'attenzione perché questo all'estate quando c'è il sole minchia è una spara come un disco boy no e poi l'ultimo questo qua sub marina date in gara verde kermit questo è bellissimo si va bene anche questo io mi ricordo quando io era piccolo ho visto sempre questo orologio sulle negozi con la gara verde mi piace tantissimo questo qua un orologio da bambini si poi omega si master no time to die questo orologio bellissimo questo mi piace perché non non grida come il gmt master 2 questo è un po più stealth un po leggero leggero sobrio e non è così conosciuto anche si e poi poi il avigation big eye bello questo qua toppino ho preso questo anno perché mi piace tanto il disegno perché questo crologafo è bellissimo è bello si anche se la cassa è troppo alto con questo orologio io non ho un problema perché le proporzioni sono giuste ok è un bellino questo qua è certo questo è tutto grazie Davide per sentire ciao ciao questo è tutto hai detto pula come si suol dire no complimenti per tutti questi orologioni qua c'è una collezione ben variegata non si può dire che sia variegata perché è sovraesposta è sovrappesata sui rolex cioè quando ci bisogna diversificare bisogna diversificare invece te hai scelto di sovrappesare la casa rolex che insomma va bene sono tutti ottimi orologi poi mega longina complimenti 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 amico teutonico per la tua collezione che ci ha fatto invidia anche per la disponibilità economica che hai perché insomma sono tutti orologi che bisogna cacciare il grano per averlo e va bene comunque bravo spero che adesso però molli un pochino il filone rolex perché va bene mo ce li hai quasi tutti quelli che devi avere ti manca il digest prenditi un digest 41 poi non rompere più le scatole coi rolex bro metti da parte ce li hai sei contento e buttati a scoprire tutto quello che c'è al di là di questi rolex perché con questo a parte che hai preso tre gran seiko che quindi mi levo il cappello perché tre gran seiko vuol dire che insomma con questi tre gran seiko diciamo che mitighi tutto quel mainstream bravo tre gran seiko però poi dopo lanciati anche su zenith il primero un bel bright l'incronomat un cartier santos un gege le cutre questa robina qua oppure come l'amico di prima spariamo ancora un po' più in alto vacheron constantin bregui o demar piguet e a proposito qua è stata una puntata piena di orologioni come si deve vabbè magari non so quanto verrà lunga come puntata perché sono quattro video ma a media può danse che sia quella però la qualità degli orologi dentro è da bomba vabbè io spero vi siano piaciuti mi sembra resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love